Luca Filippo Revisore-Posito Lasciate che vi faccia qualche domanda. Quando è stata l'ultima volta che avete preso un antibiotico? Era quello corretto? E ne avevate veramente bisogno? Beh, la risposta è probabilmente no. Secondo uno studio recente commissionato dal governo britannico, circa il 70% delle prescrizioni antibiotiche non sono necessarie o non sono specifiche. Ovvero, quell'antibiotico che avete preso di recente, è molto probabile che non ne avevate bisogno o che non era specifico per l'infezione che avevate contratto. E dovremmo preoccuparci di questo problema? Beh, questa immagine dovrebbe essere abbastanza esplicativa. Se non lo è, ciò che state osservando sono delle piastre di suscettibilità antibiotica, che vengono comunemente utilizzate per determinare l'efficacia di diversi antibiotici nei confronti di diversi batteri. Ora, le zone opache e lattiginose che vedete su questi piatti sono batteri che stanno crescendo su questa area, su questo disco. E per testare l'efficacia degli antibiotici, vengono posizionati quei dischetti bianchi che sono imbevuti di antibiotico, così che l'antibiotico possa diffondere al di sopra del piatto ed attaccare i batteri. Ora, se l'antibiotico funziona, i batteri muoiono. E questo è visibile come questi aloni attorno ai dischetti bianchi nella figura di sinistra. Questo però era abbastanza vero per molti antibiotici dieci anni fa. Al giorno d'oggi, come vedete, uno di questi test appare più come la figura di destra, la quale ci dice che i batteri stanno diventando estremamente resistenti agli antibiotici. Come potete vedere, le zone lattiginose adesso sono molto vicine ai dischi di antibiotico, il che vuol dire che i batteri riescono a crescere anche in presenza dell'antibiotico. Ma quanto è importante, quanto è grande, quanto è grave il problema? Lo stesso studio di cui vi parlavo prima ha cercato di quantificare le cause principali di morte per anno in tutto il mondo, tra cui potete vedere il cancro, il diabete, la diarrea, il colera, gli incidenti stradali, e l'antibiotico resistenza, che solamente nel 2014 ha causato 700.000 morti in tutto il mondo. Morti causate dal fatto che si contraggono infezioni per le quali non esistono più antibiotici che funzionano. Ma ciò che è terrorizzante di questo studio è che, secondo alcune previsioni, questo numero potrebbe salire a 10 milioni entro il 2050. Ciò che vi sto dicendo è che l'antibiotico resistenza potrebbe diventare il cancro del futuro. Ora, perché ciò accade? Perché e come i batteri sviluppano resistenza? Beh, dovete sapere che i batteri sono degli organismi minuscoli, formati da un'unica cellula e contenenti un'unica molecola di DNA al loro interno. Ed è proprio questa loro semplicità la chiave del loro successo evoluzionistico. E' proprio grazie a ciò che i batteri riescono a duplicarsi molto velocemente e nel giro di poche ore raggiungere i miliardi di individui, partendo da un solo individuo iniziale. Ora, immaginiamo di voler uccidere questo miliardo di batteri utilizzando un antibiotico, per esempio. Ora, se tenete conto di questi due fattori, del fatto che i batteri sono geneticamente semplici e che sono miliardi e miliardi, è allora molto probabile che anche una piccola mutazione casuale del DNA riesca a conferire resistenza anche a un singolo batterio. Quel singolo batterio adesso è in grado, per esempio, di distruggere la molecola di antibiotico o di espellerla all'interno della cellula, così che possa sopravvivere. E una volta che ciò accade, il danno è fatto. Perché quel singolo batterio adesso dà la vita ad un'intera discendenza di batteri resistenti. Stiamo parlando sostanzialmente di selezione naturale, la legge del più forte. Quell'unico batterio che riesce a sopravvivere avrà la meglio e così faranno tutte le generazioni successive. Dunque, voglio mostrarvi questo effetto dal vivo con un esperimento che è stato realizzato qualche anno fa, pubblicato su Science. E in questo esperimento i ricercatori hanno costruito un enorme disco di suscettibilità come quello che vi ho mostrato precedentemente, ma rettangolare e diviso in fasce verticali. In ognuna di queste fasce è presente una quantità diversa di antibiotico, crescente da zero, crescente verso l'interno. E ora, come potrete vedere, i batteri vengono fatti partire dall'estremità e come vedete crescono abbastanza tranquillamente in assenza di antibiotico e vengono arrestati alla prima barriera dove è presente il farmaco. Fin quando una mutazione emerge, quel singolo batterio riesce a mutare casualmente, riesce a proliferare all'interno delle prime fasce esterne dove è presente l'antibiotico e molte più mutazioni iniziano a apparire da tutte le parti. E questo accade nuovamente, man mano che i batteri si spostano verso l'interno dove la quantità di antibiotico cresce tra uno e dieci, tra dieci e cento, come vedete proliferano e proliferano, fin quando in meno di dieci giorni, dieci giorni, i batteri riescono a colonizzare anche la regione centrale dove è presente una quantità di antibiotico mille volte superiore a quella che avrebbe ucciso i loro progenitori vecchi di appena dieci giorni. Spero siate d'accordo con me che questo video è da una parte terrorizzante, perché ci fa capire quanto grave e grosso il problema effettivamente sia, ma d'altro canto è un video meraviglioso, perché a mio parere ci mostra quanto efficace ed è una prova lampante della selezione naturale e dell'evoluzione dei batteri, in questo caso. Dunque abbiamo capito che il problema è del tutto naturale, selezione naturale appunto. Charles Darwin ne parlava due secoli fa, già. Quindi cosa stiamo facendo noi umani come specie umana? Come stiamo interferendo? Beh, sappiamo bene che noi in quanto esseri umani siamo molto abili nell'interferire spesso negativamente con processi del tutto naturali. E questo non è da meno. Il modo in cui stiamo interferendo, come immagino già saprete, risiede nell'utilizzo scorretto e spropositato di antibiotici. Che facciamo? Antibiotici ad ampio spettro, antibiotici non necessari per influenze virali, per esempio. Cicli antibiotici non terminati. Tutti questi fattori forniscono ai batteri delle occasioni d'oro per poter sviluppare resistenza. Forniscono delle occasioni per quelle mutazioni genetiche di avvenire. Ora, perché? Quali sono i meccanismi dietro questo utilizzo degli antibiotici? Ora, la catena di diagnosi delle infezioni e prescrizione degli antibiotici, idealmente, dovrebbe essere come questo piccolo diagramma. Ora, quando abbiamo una sospetta infezione, un nostro campione di saliva, urina o sangue, per esempio, viene prelevato, mandato ad un laboratorio per un'analisi microbiologica, il cui scopo è quello di identificare il migliore antibiotico così da poterlo prescrivere. Questo tipo di analisi microbiologica, tuttavia, viene spesso eseguita utilizzando quei dischi di suscettibilità di cui parlavo precedentemente. Ciò che non vi ho detto, però, è che questi dischi sono lenti. Questi dischi impiegano dalle 24 alle 48 ore per poter fornire un risultato. E di conseguenza, le prescrizioni antibiotiche vengono fatte alla cieca e basandosi semplicemente sull'esperienza del medico. Questi test o non vengono eseguiti, o non se ne attende il risultato, proprio perché sono troppo lenti. E i motivi per cui questi test sono lenti sono fondamentalmente due. Da una parte utilizzano crescita batterica come indicatore, ovvero se l'antibiotico arresta la crescita, funziona, altrimenti no. Ma la crescita batterica, a questo livello, impiega quel tempo. E d'altro canto, questi test studiano miliardi di organismi nello stesso test. Sostanzialmente fanno di tutta l'erba un fascio. E sappiamo bene che fare di tutta l'erba un fascio spesso non è la soluzione migliore, anche nella vita quotidiana. Dunque, la domanda adesso è, what if? Possiamo pensare ad un approccio alternativo, ad un approccio fuori dagli schemi che possa riscrivere la diagnosi delle infezioni? Beh, questo è quello di cui mi occupo in quanto ricercatore presso l'Università di York. e ciò che facciamo in particolare è cercare di identificare dei nuovi indicatori di suscettibilità batterica, ovvero cerchiamo di studiare alcune proprietà batteriche che vengono influenzate dagli antibiotici, che vengono attaccate e modificate dagli antibiotici in tempi ristretti rispetto alla crescita batterica. Inoltre, facciamo queste misure a livello del singolo batterio, ovvero misuriamo i batteri uno per uno. Ogni batterio è diverso da ogni altro e questo deve essere tenuto in considerazione per una corretta diagnosi. E in tutto ciò ci viene in aiuto la microfluidica, che è la scienza che ci consente di controllare e manipolare i liquidi nei quali i batteri vivono su scala micrometrica, su scala del milionesimo di metro. E questo è il dispositivo che utilizziamo. E questo dispositivo è costituito da un vetrino da microscopio, sostanzialmente un pezzo di vetro, al di sopra del quale fabbrichiamo delle piccole trappole, in verde. Queste piccole trappole agiscono come delle micro dighe, delle micro barriere, per i batteri che vengono iniettati attraverso questo tubicino, in modo che possono rimanere intrappolati all'interno di queste barriere e poi osservati utilizzando un semplice microscopio da laboratorio. E questo è ciò che osserviamo. Ora, qui potete vedere in verticale il canale microfluidico, stiamo parlando ancora di milionesimi di metro, abbiamo un certo numero di queste micro dighe, le chiamerei quasi, batteri che nuotano e alcuni dei quali vengono intrappolati all'interno di queste trappole, così che possiamo misurarli uno per uno. Le trappole sono minuscole, ognuna riesce a contenere un singolo o pochi batteri. E adesso ciò che misuriamo, come dicevo, non è la crescita batterica, è troppo lenta. Ci focalizziamo invece su due proprietà batteriche molto interessanti. La motilità, ovvero l'abilità dei batteri di nuotare, di muoversi negli ambienti liquidi, e la morfologia, ovvero la loro forma. Ora, dovete sapere che in assenza di antibiotico, dei batteri perfettamente in salute sono dei nuotatori provetti, come potete vedere da questi video. Ed è normale che lo siano, perché ciò gli fornisce un vantaggio evolutivo. È proprio grazie a questa abilità di nuotare che riescono ad esplorare regioni circostanti alla ricerca di nutrienti, o per attaccarsi a delle superfici, o per comunicare con altri batteri, per esempio. E allo stesso tempo, le loro forme sono abbastanza regolari, il che è importante per mantenere un equilibrio tra l'interno della cellula e l'esterno. Tuttavia, nel momento in cui introduciamo all'interno del dispositivo l'antibiotico corretto e solo l'antibiotico corretto, i batteri non sono più così bravi a nuotare. Potete vedere che vengono ancora intrappolati, ma non si muovono più attivamente, perché l'antibiotico sta interferendo con le loro funzioni vitali, non hanno più l'energia sufficiente per poter nuotare in maniera efficace. E allo stesso tempo, l'antibiotico causa delle forme abbastanza strane. Alcuni antibiotici rendono i batteri più corti, più lunghi, o con queste forme AV, che sono tutti degli indicatori di morte batterica. Ma il punto chiave adesso è che non ho bisogno di aspettare quelle 24 ore per far crescere i batteri, perché questi cambi causati dall'antibiotico avvengono e possono essere misurati in appena un'ora. Quindi ciò che vi sto dicendo è che questo dispositivo potrebbe essere in grado di identificare l'antibiotico corretto e specifico in circa un'ora. Dunque, per concludere, l'idea che voglio proporvi oggi, che voglio portare a casa, è che in questo ciclo di diagnosi delle infezioni e prescrizione degli antibiotici, l'anello debole è rappresentato dalla diagnostica. La diagnostica è troppo lenta, non ci consente di individuare l'antibiotico migliore in tempi ragionevoli e di conseguenza si abusa di antibiotici. Dunque, ciò che bisogna riscrivere, ciò che bisogna ripensare, è esattamente l'elemento diagnostico, e sostituire queste piastre tradizionali con dei metodi alternativi, per esempio microfluidici, di cui vi ho parlato, o anche un sacco di altre tecniche che vengono studiate dai ricercatori di tutto il mondo, spesso all'intersezione tra diverse discipline, come nel mio caso. Ed è solo in questo modo che possiamo sperare, in un futuro, si spera, non troppo lontano, di riuscire a seguire la ricetta perfetta della prescrizione antibiotica, ovvero l'antibiotico corretto, al paziente corretto, al momento corretto.